Ed ora pagina politica, l'assessore regionale alla sanità della regione Abruzzo Nicoletta Veri ha formalmente comunicato le sue dimissioni dalla Lega. Saluto e ringrazio, spiega la Veri, tutti coloro con i quali ho condiviso questa esperienza durante la quale la nostra regione ha non solo affrontato e superato l'emergenza pandemica ma anche centrato obiettivi che i nostri predecessori non sono mai riusciti a raggiungere. Penso ad esempio alla nuova rete ospedaliere, alla rete territoriale, agli accordi di programma per i nuovi ospedali. L'assessore proseguirà il suo impegno politico nel centro-destra a sostegno della candidatura del presidente Marco Marsiglio.